Concludiamo l'approfondimento sull'enciclica Caritas in Veritate e lo facciamo con il professor Marcus Krinke che saluto e che ringrazio proprio per il suo commento esimio che ha fatto. Vogliamo con lui approfondire soprattutto l'enciclica attraverso Antonio Rosmini, il pensiero di Antonio Rosmini e quindi io parto subito con una prima domanda e cioè Caritas in Veritate. Il titolo, la carità è al centro. Professore, cosa significa? Infatti questo senz'altro sta in coerenza con l'insegnamento di Benedetto XVI, infatti il concetto di carità stava al centro già delle sue due encicliche precedenti e ora l'ha messo anche al centro del suo annuncio sociale. E proprio in questa chiave ho trovato proprio una bellissima citazione di Immanuel Kant che non si aspetterebbe che una tale citazione ti viene da Kant e la vorrei proprio citare in questo momento. Kant dice il cristianesimo oltre al massimo rispetto che la santità della sua legge esige irresistibilmente ha in sé qualcosa di amabile. Se mai dovesse accadere che il cristianesimo cessasse di essere amabile, di essere liebenswürdig, come dice Kant, cosa che potrebbe ben verificarsi se si rivestisse di autorità dispotica abbandonando il suo spirito mite, allora, poiché nelle cose morali non vi è neutralità e ancor meno vi è possibilità di coalizione fra principi opposti, l'animo dominante degli uomini nei suoi confronti finirebbe con l'essere quello dell'avversione e dell'opposizione. Come dire che l'effetto sociale del cristianesimo, l'effetto verso la società è proprio un elemento in sé stesso che non è nessun elemento tecnocraticamente organizzabile, elemento che critica proprio l'enciclica, ma proprio quel elemento della amabilità. Un momento che la nostra enciclica esprime con il concetto di carità, un concetto con il quale la Chiesa stessa in un certo senso vuole essere un esempio, vuole andare avanti, ma non solo come istituzione, ma anche attraverso tutti i cristiani che nella politica, che nell'economia, che nei vari sistemi sociali lavorano e in questo senso diffondere il suo messaggio e fare effetto anche all'interno delle strutture sociali affinché venisse infuso in esse la dimensione morale. Per questo trovavo proprio questa citazione inaspettata di Kant molto emblematica per introdurre questa enciclica. Bene, grazie professore. Approfondiamo a questo punto una lettura rosminiana di questa enciclica e partiamo proprio da quella che è l'introduzione. carità e verità, titolo dell'enciclica, vengono declinati nell'introduzione in chiave di antropologia teologica, ma sono anche i temi centrali dell'antropologia rosminiana. Ecco, professore, quali sono le convergenze e le divergenze, le differenze? E poi può aiutare la lettura rosminiana a inquadrare meglio quella che è la sistematica dell'enciclica stessa? Sì, grazie per questa domanda molto complessa, evidentemente. In effetti, se si pensa a verità e carità, l'associazione a Rosmini viene immediatamente. Verità e carità come temi centrali non solo dell'antropologia, dell'ontologia e della metafisica rosminiana che è incentrata personalisticamente. Infatti troviamo ad esempio nell'introduzione alla filosofia la frase in questa carità esercitata nella verità consiste veramente l'opera della sapienza cristiana, una frase che potremmo in teoria trovare perfettamente anche nella presente enciclica. Ma allo stesso momento penso che non ci sono solo identità tra Rosmini e la enciclica, che anzi in alcuni punti anche uno sguardo, una riflessione rosminiana possa insalto aiutare anche a approfondire, a risolvere alcune domande che vengono fuori dalla lettura dell'enciclica, ad esempio dell'introduzione che tratta proprio del rapporto verità e carità. E vorrei semplicemente semplificarlo con un problema concreto che emerge dalla introduzione, una riflessione. In effetti il Papa utilizza la parola carità nella introduzione in un modo che almeno un lettore che si è formato nella scuola rosminiana fa un attimo stupire, stupire in senso positivo perché fa riflettere, fa pensare. Per l'introduzione di questa enciclica la carità non ha solo un'accezione propriamente teologica o cristiana, ma anche un'accezione molto ampia, molto vasta. In effetti viene identificata anche con l'agire sociale in generale. In effetti l'enciclica parla del rischio, degli sviamenti e degli svuotamenti di senso della carità. Cioè una carità che può scivolare nell'emotivismo e nel sentimentalismo. E per questo è una carità che deve essere sempre sorretta dalla verità, integrata dalla verità, verità che in ultimo analisi è la verità teologica, è la verità della rivelazione cristiana. Questo per una lettura rosminiana senz'altro è un momento che fa riflettere. Perché? Perché la carità deve essere integrata dalla verità sopranaturale. Rosmini a questo momento fa una riflessione in più e ci aiuta a capire un problema che qualcuno solleva leggendo questa introduzione. Qual è il problema? Uno potrebbe chiedere se c'è la carità soltanto all'interno delle rivelazioni cristiane. Allora la carità c'è solo all'interno del cristianesimo. Ma se il messaggio sociale del cristianesimo, soprattutto nell'ambito della globalizzazione, va verso tutta la società, allora in questo si verifica una contraddizione. Il mondo si deve prima cristianizzare e poi la chiesa può trasmettere un messaggio sociale? No. Infatti l'enciclica è indirizzata a tutti gli uomini di buona volontà. L'enciclica dice una verità degli ordinamenti sociali in quanto tali. Ma parla di una carità che si capisce solo all'interno della verità rivelata. Allora c'è un momento difficilmente inquadrabile. E questo qualcuno suscita, questo problema qualcuno suscita leggendo questa introduzione. Allora io penso che in questo momento la lettura rosminiana aiuta a capire e a risolvere questa domanda che qualcuno potrebbe fare. Non deriva dalla sistematica stessa dell'enciclica, ma da una certa lettura. E una lettura rosminiana appunto può aiutare. Come può aiutare? Perché Rosmini dice che c'è un'integrazione della carità nella verità, non soltanto se vogliamo così verticale, ma anche orizzontale. C'è la carità nella verità nell'ambito dell'essere, contingente e assoluto. Rosmini introduce qui la differenza ontologica. E quindi ha anche un rapporto tra verità e carità orizzontale. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che già nell'ambito del creato, nell'ambito della globalizzazione, c'è una verità che sorregge la carità. In tutto il mondo c'è una verità che sorregge la carità. Non soltanto la verità rivelata. E questa verità che sorregge la carità è la verità che con l'intuizione dell'idea dell'essere è dentro in ciascun uomo, anche nei non cristiani. E questo è un aspetto senz'altro interessante che fa sì che Rosmini parla di una duplice carità. Parla di una carità universale, in chiave di umanità. E poi questa carità, in senso di umanità, viene integrata nella carità sopranaturale, che è la carità della fraternità cristiana. E quindi riesce a interpretare in tutto il mondo, a gente, una carità autentica, che però è indirizzata verso la carità cristiana. E questo fa sì che possiamo valorizzare positivamente, in chiave di carità, tutti gli ordinamenti, tutto quello che è giusto, tutta la giustizia che si realizza a livello dell'economia degli ordinamenti giuridici globali, possiamo valorizzare positivamente e allo stesso momento è solo un momento contingente della realizzazione della carità che poi tende al suo inveramento sopranaturale nel cristianesimo. Voglio fare solo due citazioni per esplicitare meglio questo punto. Rosmini dice che c'è una forma di carità che significa la fraternità cristiana. Quindi questa che in senso stretto viene tematizzata dalla enciclica. E scrive, tutti quelli nei quali già vive Cristo e che si amano di un amore indicibile e quasi beatificante e si prevengono in ogni onore e aiuto, con ogni sacrificio, perché Cristo, che in essi abita, cresca nei fratelli e in tutta la comunità. Questa è la carità propriamente cristiana. Ma Rosmini dice che c'è anche una umanità, c'è anche una giustizia, c'è, se vogliamo così, una carità fondamentale in tutto il mondo, perché tutto il mondo è creato da Dio, tutto il mondo ha in sé una verità che sorregge la carità. E scrive in questa chiave, la umanità poi è quella forma di carità con la quale si amano tutti gli uomini. Quindi c'è una forma di carità, dice Rosmini, che è umanità con la quale si amano tutti gli uomini, non perché abbiano in sé Cristo, ma perché non avendolo ancora, voglio sottolineare questo, non avendolo ancora, lo possono avere. E questa è il fonte di quello zelo infaticabile della salute dell'anime, onde l'uomo desidera e fa quanto è da lui, che tutti quelli che sono fuori ancora della chiesa di Cristo vi si aggreghino e si convertano i pecatori. Quindi c'è una forma di carità che lancia, che indirizza tutto il creato, che indirizza tutti gli uomini, perché tutti gli uomini in sé hanno questa verità che è una verità contingente, ma li lancia al di sopra di se stessi, verso la forma perfezionata della carità, e che fa sì che, siccome c'è una forma iniziale di carità in essi, in tutto che è amore profondo tra gli uomini, Rosmini parla in questo senso anche di un amore oggettivo, non c'è solo amore soggettivo, non c'è solo emotivismo o sentimentalismo al di fuori del cristianesimo, c'è anche un vero amore oggettivo, ma quello è sempre finalizzato verso la carità cristiana, e questo fa sì che, dal punto di vista dell'etica sociale cristiana, della dottrina sociale della chiesa, si può valorizzare positivamente, in tutto il creato, strutture di giustizia, strutture positive di realizzazione della giustizia, della dignità umana nei sistemi sociali, che noi possiamo positivamente anche valorizzare. E in questa chiave penso che la lettura rosminiana dà uno spunto positivo per superare questa difficoltà che a qualcuno può venire leggendo questa introduzione. Bene, grazie. Nel secondo capitolo il Papa afferma che ci sono l'amore ricco di intelligenza e l'intelligenza pieno di amore. Possiamo leggere proprio questa affermazione, come altre che ci sono all'interno dell'enciclica, come forma di carità intellettuale a cui fa riferimento proprio Antonio Rosmini? Infatti, questo sì, ma anche qui ritengo che la lettura rosminiana ci dà proprio anche un approfondimento. Perché se leggiamo c'è un... c'è l'intelligenza piena di amore e l'amore piena di intelligenza, qui l'enciclica utilizza la parola amore e non carità. Quindi, come dire che nel mondo c'è un'intelligenza, ma lasciata quella da sola diventa un'intelligenza tecnicistica e non veramente umana. La stessa cosa anche con l'amore, diventa un amore emotivismo, soggettivo, ma non veramente umano. E che nella carità cristiana avviene questa sintesi. Ma in quale chiave avviene questa sintesi? Qual è la sistematica di questa sintesi? Uno si potrebbe chiedere a questo punto. E anche qui nuovamente ritengo che la lettura rosminiana ci dà un approfondimento. Un approfondimento quando Rosmini dice che la carità è sempre la via verso la perfezione, verso la pienezza. Verso la pienezza dell'essere in tutte le sue forme, rivolta all'altra persona. In effetti l'altra persona come il sintesismo tra forma reale, ideale e morale. E ad essa ci dobbiamo rivolgere non soltanto in chiave di carità temporale, come dice Rosmini, dell'aiuto concreto e materiale. Non soltanto in chiave di carità spirituale, cura dell'anime, ma anche in chiave di carità intellettuale. E questa forma intellettuale di carità, dice Rosmini, tende immediatamente a illuminare e a richiedere di cognizioni l'intelletto umano. Rosmini dice che in questo senso cosa avviene nella carità intellettuale? La carità intellettuale non è semplicemente qualcosa che si risolve a livello dell'organizzazione del sapere o che a un'intelligenza dobbiamo aggiungere l'amore. Carità intellettuale vuol dire lo special modo in cui uno fa scienza e trasmette questa scienza. Una carità che ha in sé la forte accentuazione educativa. Non basta semplicemente trasmettere informazioni. Nella carità avviene qualcosa come educazione, nella formazione. E se questa non avviene, abbiamo un problema in tutta l'organizzazione del nostro sapere, in tutta la nostra organizzazione epistemologica, nella quale si avviene questa riduzione a una pura forma di sapere organizzabile. Rosmini dice che qui ci vuole una certa educazione, ci vuole un'etica all'interno dell'epistemologia. Però questo, dice, non è semplicemente un'aggiunta, non è semplicemente un mettere insieme intelligenza e amore, ma come avviene? Questa è una sistematica praticamente ontologica, dice Rosmini. Questa è una dinamica che è all'interno dell'essere stesso, che è una dinamica che alla fine esige l'altra persona in quanto è un essere che tende alla sua perfezione. E questo poi alla fine fa anche sì che la gestione del nostro sapere, che la gestione anche delle nostre opere, funziona anche poi in un modo più intelligente, in un modo più efficace, in un modo, in questo senso, se vogliamo così, come si intende normalmente, più intelligente. Ma questa è poi una conseguenza che deriva da lì. Rosmini ci svela più o meno la sistematica interna di questo concetto di carità intellettuale. Grazie. Continuiamo proprio nel modo particolare tra il primo e il secondo capitolo. Il Papa affronta il tema dello sviluppo proprio come vocazione. E dice, la vocazione è un appello che richiede una risposta libera e responsabile. Lo sviluppo umano integrale suppone la libertà responsabile della persona e dei popoli. Ebbene, la domanda è questa. La responsabilità liberale che la persona ha proprio per il proprio sviluppo in chiave di vocazione può essere considerata una dimensione rosminiana questa? Senz'altro questa. Senz'altro. E proprio su questo punto Rosmini è molto d'accordo con quanto scrive l'enciclica in quello che ha citato. Lo sviluppo umano integrale suppone la libertà responsabile. Questo sta nel paragrafo 17 dell'enciclica, dopo quel paragrafo in cui il XXVI ha ripreso Paolo VI che ha specificato che il progresso non deve essere inteso come semplicemente progresso economico o tecnologico, ma senz'altro in chiave di sviluppo e questo vuol dire in chiave veramente umano, ergo in chiave di vocazione. Ma questo non è un destino che avviene nei confronti dell'uomo. Questa è una sistematica che di per sé è una sistematica nel vero e proprio senso personalistica, che presuppone la libertà della persona. E per questo ho cercato anche nel videocorso di evidenziare come Caritas in Veritate è anche una formula che di per sé implica un terzo termine che è quello della libertà. In effetti lo leggiamo proprio nel primo paragrafo dell'enciclica che due frasi dopo già di questa sistematica Caritas in Veritate non a caso con una citazione del Vangelo di Giovanni viene menzionata la parola in libertà, è la via verso la libertà. In effetti Caritas in Veritate come chiave antropologica della enciclica, quindi come chiave che mette al centro la persona umana e la sua dignità, implica di per sé la libertà di questa persona all'interno dei sistemi sociali, che la libertà è la chiave che sta alla base dell'annuncio sociale della Chiesa. Attenzione, non siamo nella dogmatica o nella teologia morale, nei confronti dei sistemi sociali mondiali il valore che deve essere trasmesso è il valore della libertà. Libertà evidentemente non in senso indifferente, ma in senso della verità nella carità, cioè quindi nel senso della libertà morale. E questo significa nient'altro che la persona sta al centro, la sua dignità, e da lì derivano poi tutti gli altri valori fondamentali della dottrina sociale della Chiesa. Quindi la lettura proprio, veramente e propriamente personalistica di questa frase dell'enciclica, che più o meno riassume i primi due capitoli, riceve tramite la lettura rosminiana, secondo me, una profonda e importante approfondimento. Continuiamo e passiamo proprio al terzo capitolo, dove viene detto che l'essere umano è fatto per il dono. Ebbene, il rapporto tra il dono e la giustizia, tra il mercato e l'ordinamento sociale, quindi la giustizia sociale, qual è? Ma ancora, soprattutto, qual è il rapporto tra quella che è la logica della giustizia con la logica del dono, della gratuità? E la lettura rosminiana può aiutare in tutto questo? E soprattutto quali sono un po' le convergenze e anche qui le differenze? Grazie, questa è una domanda proprio intensa. Infatti, io ho trovato proprio nel capitolo, nel paragrafo 37 dell'enciclica, una sistemazione, che secondo me è la sistemazione del capitolo sull'economia di questa enciclica, sistemazione che forse ho trovato proprio leggendola un po' in chiave rosminiana, e vorrei proprio citare questa sistemazione. La frase è questa. La vita economica ha senz'altro bisogno del contratto per regolare i rapporti di scambio tra valori equivalenti, ma ha altresì bisogno di leggi giuste e di forme di redistribuzione guidate dalla politica e inoltre di opere che recchino impresso lo spirito del dono. Ecco, questa frase, che cosa, che quale, quale, quale disputa aiuta a risolvere la lettura rosminiana di questa frase? C'è un gruppo che dice che la dottrina esposta nella Caritas in Veritate non contraddice in nessun modo alla sistematica più o meno personalistico-liberale dell'accentissimus annus, ossia dell'ordinamento politico e dell'economia secondo i principi di solidarietà e sussidiarietà. Invece c'è un altro gruppo che dice che la dottrina della Caritas in Veritate introduce una dimensione che contraddice profondamente a un'impostazione personalistica liberale dell'economia e questa è la dimensione della fraternità e del dono che appunto non si realizza attraverso il contratto e il mercato ma soltanto attraverso le relazioni morali fra le persone. Secondo me la lettura rosminiana di questa frase che ho appena letto riesce a conciliare queste due posizioni e per questo anche ad approfondire il messaggio dell'enciclica e vorrei suddividere questa frase in questi tre punti. Prima dimensione è la vita economica ha senz'altro bisogno del contratto per regolare i rapporti di scambio tra valori equivalenti. Contratto. Seconda dimensione ma ha altresì bisogno di leggi giuste e di forme di redistribuzione quindi ordinamento politico e giustizia distributiva. E terza dimensione è inoltre di opere che reichino impresso lo spirito del dono. Terza dimensione economia del dono. E proprio questa triplice ripartizione troviamo nella sistematica rosminiana perché Rosmini non è per niente contro, come anche l'enciclica, contro il mercato, contro la libertà dei soggetti fino alle imprese eccetera. In effetti anche per Rosmini il mercato di per sé non è un mercato selvaggio, non è una forma non etica di rapporti umani, è una forma di giustizia, è una forma molto basale di giustizia, non è per niente completa, non è una giustizia neanche personalistica, è una giustizia molto astratta perché è la pura giustizia commutativa, il rapporto catalattico direbbe Von Hayek. Ecco, quando noi ci incontriamo scambiamo oggetti secondo le regole del mercato allora si realizza una certa giustizia. È molto fondamentale, anzi questa giustizia può comportare con sé le più grosse ingiustizie sociali dopo, ma di per sé è una relazione bassalissima di giustizia e infatti presuppone alcuni momenti che poi si realizzano soltanto dopo a livello dell'ordinamento politico con il quale entriamo già nella seconda sfera ed è questo che sono tutelate le nostre libertà fondamentali, quelli che Locke ha chiamato Life, Liberty, Estate, che noi abbiamo il diritto alla nostra vita, alla nostra libertà e alla nostra proprietà. Quindi i regolamenti, i diritti fondamentali ancora puramente negativi. Ma nell'ordinamento politico ci vuole molto di più e qui siamo adesso pienamente dentro il secondo punto. Ci vuole tutto il regolamento concreto dei rapporti economici e questo avviene tramite, senz'altro ordinamento ho già accennato, politico-giuridico e in ultima analisi anche tramite la Costituzione. E qui siamo nel modello rosminiano. A livello, e questo è il secondo livello, non siamo più nella giustizia puramente commutativa, ma nella giustizia sociale. Cosmini scrive la Costituzione secondo la giustizia sociale. E come si realizza la giustizia sociale? Secondo una fondamentale uguaglianza. E questa uguaglianza adesso non è più la pura uguaglianza dello scambio catalatico. Adesso è la uguaglianza della nostra dignità. Non è la uguaglianza materiale di tutti i beni, che noi tutti dobbiamo avere le stesse cose materiali. No, questo è un concetto di uguaglianza molto materialistico evidentemente, fin quando socialista. No, la uguaglianza di noi consiste nella uguale dignità e questa si realizza attraverso la Costituzione, attraverso il concetto di diritto quindi. Cosmini sviluppa una vera e propria etica del diritto. È attraverso minime forme di retristribuzione. Attenzione, dico minime forme di retristribuzione. Comportano per Rosmini forme di retristribuzione che sono quelle forme che fanno sì che noi possiamo effettivamente avvalerci dei nostri diritti fondamentali. Quindi retristribuzione che va fino al minimo, nel senso della nostra dignità umana a livello sociale. E questo è ancora tutto nell'ambito della giustizia sociale e del dovuto. Quindi lo Stato, in altre parole, non deve far morire nessuno sulla strada. Ma lo Stato può diventare veramente e propriamente retristributivo, si chiede Rosmini. E qui svolge un ragionamento molto interessante. Ed è questo. E ancora abbiamo due minuti. Il ragionamento è questo. Rosmini dice che la retristribuzione vera e propria, lo Stato, in un certo senso, lo Stato assistenzialista, lo Stato del beneficio, ha un problema strutturale. Qual è? Che la carità, il beneficio, dice Rosmini, è una cosa personale. Prima abbiamo parlato della carità intellettuale, la carità che è il perfezionamento della persona. Rosmini dice e obblighi. Quindi, tutt'altro che in modo spontaneo. E Rosmini si chiede in un articolo del 48, la domanda molto interessante, allora lo Stato può veramente essere uno Stato di benevolenza? E Rosmini dice, appunto, lo Stato originalmente non può realizzare la carità. il sistema centrale, il sistema organizzato, non può realizzare in modo autentico la carità. Gli individui non realizzano la carità. Lo Stato lo può fare soltanto in modo sussidiario. Perché Rosmini dice, solo in un momento lo Stato può realizzare la carità. E qual è questo momento? Quando è chiaro che con questa azione lo Stato non rispecchia nient'altro che l'azione spontanea di tutti gli individui. Qui, semmai, c'è un limite della concezione democratica di Rosmini che restringe un po' il gruppo, evidentemente, di questi individui. Ma comunque, di tutti gli individui, quello che loro farebbero solo spontaneamente, solo se l'azione dello Stato rispecchia perfettamente la spontaneità di tutti gli individui, allora lui può anche fare la carità. E questo non significa nient'altro in modo sussidiario. E questo è molto interessante. La giustizia sociale, a questo secondo livello, si realizza tramite la Costituzione, tramite l'ordinamento politico. E solo qui vediamo, ecco, il terzo livello, quello sussidiario, inoltre di opere che recchino impresso lo spirito del dono. E qui anche l'enciclica dice, non è obbligo dello Stato di fare questo. Perché sono le dimensioni del dono che gli individui, gli imprenditori, gli attori a livello economico devono realizzare. E a questo terzo livello lo Stato può, solo può, anzi deve lasciare lo spazio. O per utilizzare la formula famosa di Bruckenford, e queste sono dimensioni che lo Stato stesso non può creare, non può garantire, può lasciare solo lo spazio che si sviluppano, che si esercitino queste dimensioni del dono. Perché in fondo questo terzo livello della giustizia, che è il più alto livello, che è il livello della carità, del dono, parte dai singoli. Ma è evidente, e con questo chiudo questa esplicitazione un po' lunga forse, ma solo così abbiamo il livello che tutti i tre si devono integrare. Ci vuole il livello, quindi tutto basale, la giustizia commutativa, che non è ancora anti-giustizia, ma basalissimo. E poi i due altri livelli, che è la giustizia sociale, è il dono, la carità, se vogliamo così. E solo però se alla fine interagiscono giustizia sociale e carità, abbiamo il pieno della giustizia. E questo troviamo molto bello in una definizione che Sant'Omaso fa nel commento al Vangelo di Matteo, quando dice giustizia sin misericordia crudelitas est. Se c'è solo giustizia sociale, se ci sono solo leggi, allora si sfocia anche in una forma di crudeltà. Ma dice anche, solo la carità senza la forma ordinata della giustizia non funziona neanche, perché dice, misericordia sin giustizia mater est dissoluzionum. Se c'è solo dono, solo carità, senza l'ordinamento della giustizia sociale, allora abbiamo la dissoluzione sociale. E quindi di nuovo non si realizza giustizia. E vediamo in questa interazione dei tre livelli un modello, secondo me, veramente multidimensionale, polivalente di giustizia che ci propone l'enciclica. E è l'intuizione a questa lettura, senz'altro, deriva da una meditazione rosminiana su questo testo. Grazie, professore. Concludiamo questa prima parte della nostra intervista che ci sta proprio aiutando a leggere l'enciclica Arbitas in Veritate attraverso il pensiero rosminiano. Quindi grazie dell'attenzione e vi rimando alla seconda parte. Grazie a tutti.